Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, purtroppo è l'ultimo dall'Iran, arriveranno in ogni caso altri video da altri miei viaggi sicuramente, quindi rimanete connessi e se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivando anche la campanella in modo da proprio non perderveli perché vi arriverà la notifica ogni volta che caricherò un video. Quest'ultimo giorno, che in realtà non è stato l'ultimo perché l'ultimo giorno l'abbiamo passato a Teheran, però è già compreso nel primo video che ho pubblicato, quindi nel caso andate a recuperarlo, ci sono stati un po' di problemi perché avremmo dovuto andare a Bianè, però c'è stato un cambio di programma a causa di un terremoto che è stato piuttosto distante in realtà a livello chilometrico da dove eravamo, però era un po' rischioso andare ad inerpicarsi in mezzo alle montagne con il rischio magari di rimanere anche isolati in caso di scosse un pochino più vicini al posto dove eravamo, quindi abbiamo deciso di non rischiare e abbiamo cambiato programma. In ogni caso segnatevi a Bianè tra le cose da vedere se andate in Iran. Questo cambio di programma ha previsto il passaggio da Natanz che è un pochino fuori dai grossi flussi turistici in Iran e in questa cittadina abbiamo potuto visitare un piccolo campo di zafferano appunto di un'azienda che poi ce ne ha anche venduto, peraltro dicono che lo zafferano in Iran sia decisamente molto più di qualità rispetto a quello che viene venduto in Italia e io peraltro ne ho un pochino anche approfittato portandomi a causa un paio di grammi. Sempre a Natanz abbiamo visitato la Moschia del Venerdì che è una delle più vecchie in Iran caratterizzata dalla presenza di un unico minaretto che in realtà è una cosa abbastanza tipica delle moschee più antiche e soprattutto dalla cupola piramidale invece che sferica o semisferica. vicino alla moschea poi abbiamo visitato un artigiano che ci ha un po' fatto vedere delle decorazioni eccetera ed era un artigiano che si occupava di ceramica e terracotta. Vedete appunto ci ha fatto una piccola dimostrazione di una decorazione su un vaso. L'ultima città che abbiamo visitato poi è stata Kashan. La prima cosa che abbiamo visto è la casa Tabatabai che è una splendida residenza mercantile dotata di quattro cortili e splendida mente affrescata. Non è l'unica residenza mercantile perché ci sono altre residenze che noi non abbiamo visitato ma in ogni caso sappiate che ci sono, avete più possibilità. successivamente siamo passati al giardino Basque e Finn che è un giardino persiano tenuto in vita con l'acqua di una sorgente levicina. Infatti ci sono tutti una serie di canali che scorrono in questo giardino come potete ben vedere dalle riprese che ho fatto. Per finire visto che questo cambio di programma che di cui vi ho accennato all'inizio ci ha un attimino permesso di arrivare in hotel un pochino in anticipo abbiamo preso un taxi assolutamente da provare l'esperienza del taxi in Iran perché è abbastanza particolare. Se qualcuno ha già provato questa cosa ve lo farà sapere in un commento qui sotto. e abbiamo passato un attimino la serata nei vicoli della città appunto in centro. Essendo di venerdì non abbiamo fatto granché nel senso che per i persiani e per i musulmani in generale è una giornata festiva. Il venerdì corrisponde un pochino alla nostra domenica quindi non c'era praticamente nulla di aperto. Quindi abbiamo semplicemente un attimino vagato per le stradine eccetera per poi tornare in hotel. Bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, che tutta la serie vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like. Se non avete visto gli altri video dall'Iran andate a recuperarli. C'è una playlist dedicata appunto con soltanto i video dell'Iran. Se avete qualche domanda lasciatela pure in un commento qui sotto. Cercherò di rispondervi o con un altro commento o raccogliendo quelle un pochino più gettonate e facendoci un video. Sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video e vi lascio dicendovi come al solito Have a nice life.